Quanti è, insomma? Ma com'è che vincono tutti e non vinco mai? La faccia. Il destino non vuole vedere faccia di me. E poi guarda come va in giro il vestito. Guarda, sembri un barbone. Guarda a me invece, tocca, tocca qua, tocca, tocca. Che cos'è? Nutria, non toccare. Comunque noi dobbiamo diversificare, Aldo. Dobbiamo battere strade nuove, perché non ci sono soltanto che i cavalli. Non lo so, le freccente, il carling, mi stai ascoltando? Asi, mi asco, mi asco.